racconti di paura la chat di super rabbi the best in un paese di provincia viveva una giovane ragazza di nome rebecca aveva ricevuto un computer nuovo dai suoi genitori un giorno decise di entrare nella chat friends per farsi nuovi amici e quindi digitò il codice e si ritrovò a chattare ad un certo punto un ragazzo le dice eiamo la ragazza impaurita disse vattene e lui le disse ti aspetterò nei tuoi incubi più brutti la ragazza dalle sue amiche aveva sentito parlare di questi ragazzi che essendo stati rifiutati arrabbiati impaurivano le ragazzine quindi non ebbe paura e si addormentò a luna di notte la ragazza sentì rebecca rebecca allora si collegò subito alla chat per vedere se quel tipo era ancora in linea ma era offline e rebecca iniziò a sentire uno strano respiro soffocante sulla pelle alle 7 del mattino la madre andò a svegliare rebecca ma non la trovò c'era solo un biglietto che diceva non aprite quella chat